La situazione meteorologica sulla regione è determinata dall'alta pressione che dal Mediterraneo occidentale si espande anche verso l'Italia e la nostra regione e quindi garantisce già oggi tempo privo di nubi. La carta del tempo per il fine settimana vede appunto i fronti ancora lontani dall'Italia, in flusso sull'Occidentale che appena sfiora le Alpi, per noi alta pressione. Con le previsioni per sabato c'è un genere sereno su tutta la regione, qualche nuvolamento pomeridiano locale in montagna, specie verso il Cadore e forse qualche isolato temporale. Temperature salgono, 33-34 gradi, Brezza è un po' più umiti ma affose il caldo per quanto riguarda la costa. Bel tempo anche domenica, un po' di borino al mattino, caldo in aumento fino a 36 gradi localmente in pianura, ben oltre le 30 sulla costa, affoso in serata quando arriva la Brezza. Anche non di una bella giornata, rinuovo possibile qualche isolato temporale, temperature rimangono decisamente elevate, forse vengono mitigate un po' sulla costa, però al costo di un aumento dell'Affa. Martedì si avvicina il flusso atlantico, forse qualche temporale in più, sia in montagna che in pianura, le temperature vediamo iniziano a scendere, così faranno probabilmente anche nei giorni successivi. Dal solito momento dell'Arpa, Arturo Pucillo vi saluta.